Emilio, Sergio Fattorello, padre e figlio, una giornata speciale per voi due? Sì, particolarmente sentita, è un'emozione che io riceverò l'encomio alla carriera, di una lunga carriera, di 40 anni di servizio. La cosa che mi fa piacere e onore che a conservarmi l'attestato dell'encomio sarà mio figlio, che è appartenente alle Fiamme Azzurre, il gruppo sportivo della nostra polizia penitenziata, campione italiano della sezione del tira-pro. Complimenti, Sergio, intanto un'eredità pesante, quella da raccogliere, tuo padre, 40 anni di servizio, sempre in prima linea con il sindacato. Certo, cerchiamo comunque di continuare su questa strada, seguendo gli insegnamenti dei nostri genitori e ci impegneremo sempre al massimo per portare alti colori del nostro corpo, anche a livello agonistico, per rappresentare i nostri colleghi al meglio.